Diciamo che il bicchiere lo vedo mezzo pieno, nel senso che sapevamo che sarebbe stata una partita impegnativa, soprattutto sotto l'aspetto difensivo, e la squadra ha dato molta importanza a questo tipo di situazione e ha lavorato molto bene. È ovvio che poi quando andavamo in possesso palla abbiamo perso troppi palloni e abbiamo fatto fatica a andare a giocare nella metà campo avversario. È vero che l'avversario è di categoria superiore, però ci è mancato un pochino di coraggio, siamo stati un po' troppo remissivi e questo non mi è piaciuto. C'è parecchio lavoro da fare perché difendersi bene va bene, ma poi allunga un episodio più o meno fortunato, come può essere stato quello di stasera, ha determinato poi il risultato finale ed è inutile rincorrere un po' i fantasmi e dire che se non avesse fatto il 2-1 sarebbe finito in parità. È un po' nascondere la testa sotto la sabbia, quindi qualcosa non ha funzionato, però preferisco vedere il bicchiere mezzo pieno, assolutamente sì. Il pre-gare avevo detto che dovevamo venire qui con un pizzico di incoscienza e invece abbiamo aspettato di prendere uno schiaffo per mettere in campo un po' di ardore e un po' di incoscienza. Questo mi lascia un po' di rammarico. Anche sull'1-1 dopo che abbiamo raggiunto il pareggio davamo l'impressione che avevamo qualcosa in più, abbiamo ripreso coraggio e c'era la sensazione che si poteva arrivare comunque al novantesimo, però ormai era tardi perché quando ti accorgi troppo tardi non puoi adesso lamentarti se il gol del 2-1 è stato un episodio più o meno fortuito. Ci siamo svegliati tardi, abbiamo aspettato di subire il gol per avere una reazione. Questo per una squadra che vuole essere comunque anche mentalmente protagonista non è una nota positiva. Sì, noi siamo in fase di costruzione e queste partite, la partita di oggi, la partita di domenica scorsa con un avversario di categoria inferiore, le prossime partite amichevoli che andremo ad affrontare ci devono servire per capire dove intervenire e con che caratteristiche devono arrivare certi giocatori. Quindi sono partite che a noi servono come motivo di studio per cercare di fare eventualmente quelle operazioni che possano alzare il livello di questa squadra. Però in questo momento io devo rimanere concentrato, aiutare questi ragazzi e portarli a una condizione migliore atletica perché abbiamo visto che lo Spezia aveva un passo, soprattutto sullo stretto, nettamente superiore. Non so a che punto di preparazione sono, per noi avevamo magari il passo sul lungo ma sullo stretto andavamo molto in sofferenza. Non mi aspettavo un altro tipo di prestazione sotto l'aspetto fisico dalla squadra, però l'abbiamo sofferto troppo, soprattutto quando siamo riandati in possesso palla. Lì dovevamo lavorare meglio, conquistando magari più falli e spostando un po' il baricentro nella metà campo avversaria. Forse queste indicazioni sono delle avvisaglie che dobbiamo tenere conto anche per operare eventualmente sul mercato. Sono contento, mi dispiace non avergli regalato il passaggio del turno, l'essercela giocata fino oltre il novantesimo. I tifosi non ci danno pressione, i tifosi ci spronano, ci danno entusiasmo. Non sappiamo che è una piastra esigente e noi vogliamo affrontare questa avventura con il piglio giusto. Stiamo lavorando sodo e oggi tutto sommato la prestazione è vera che è stata prevalentemente difensiva, però siamo andati 5-6 volte se non sbaglio al tiro e l'azione del gol è stata una bella azione. Questa squadra ha nel suo DNA la capacità di fare qualcosa di importante, dobbiamo prenderne consapevolezza. Il rammarico più grosso oggi è quello di andare via e aver aspettato di subire il primo gol per dimostrare che potevamo fare qualcosa in più.